Una classica monumento insieme a Bike Channel e in collaborazione con Bike Division Dal 20 al 24 aprile vieni a pedalare con Alessandro Ballan e Andrea Tonti sulle mitiche strade della Liegi Baston Liegi E domenica 23 potrai anche assistere alla corsa dei pro sulla famosa Cote de Saint Roche Per info e iscrizioni vai su bikechannel.it Sulle strade della Liegi dal 20 al 24 aprile solo con Bike Channel Grazie a tutti